Sì, mica, ma sì, sì, ma sì, ma sì, ma sì, ma sì, ma sì, ma sì, si baga la pietra, io che cazzo ci posso fare? Vabbè, bello, bello, questo uccello. Sì, trollato dalle pietre che non funzionano, va bene. Una torcia, usa la torcia dei Necromantis, eh, se l'hai, eh, avercela la torcia. Magari. Io più che altro non sto capendo assolutamente dove devo andare. Trollato pure da un sasso. Lost to a rock. Ma ci è rimasto di merda. E sì che ci sono rimasto male, sì. Perché più che altro non capisco quest'area. Beh, vedi, la cosa bella di Dark Souls 2 e 3 è che non ci sono queste aree di merda, che sono difficili solo perché non hanno senso. Questo a me piace. Del 2 e del 3. Non ci sono queste aree stupidi, inutili. Del cazzo proprio. Non ci dovrebbe essere un tizio qua, eccolo. Dove sei che non vedo niente? Sei buio. Devi trovare un modo per scendere sicuro. Ok, va bene. Il punto è che se non si vede niente... Cioè... Di qua? Ma là ci sono le mie anime. What? Ma non c'è un falò da queste parti. Ok. Adesso siamo scesi e siamo dove eravamo prima. Adesso ammazziamo sto coglione e il suo amichetto. Va bene. Ma non tirare i col... Bevi, ti prego. Sì, io continuo sempre di qua. Al certo punto muoio, no? Ah! No, aspetta. Minchia, mi era... Mi era sembrato un falò. Stavo per piangere. Qui. Tanto c'è una scala, quindi in ogni caso non muoio. C'è un falò lì, adesso... Eccolo! Fa un culo a tutto, sì! Ok. Ok. Andata. E fin qua, e fin qua, e fin qua. E fin qua noi ci va bene. Adesso posso cazzeggiare. Posso scendere con molta più tranquillità. Non sapendo nulla di Darks Vi chiedo una cosa. Ma a che servono le anime? Ok, di qua la cosa. Salire di livello. Servono solo a salire di livello. Sono i punti esperienza. Solo che volevano chiamarli in maniera... In figa e quindi mi hanno chiamato anime. Ok, per ora mi sa che devo salire perché di qua mi sa che non vado da... Da nessuna parte. No, però... Mi sa che è l'unico posto in cui posso andare. No, di qua c'è... Paura. Chi sei tu? Buongiorno. Tu sembri abbastanza stesso. Che fai nei catacombe? Perché i preti vanno nelle catacombe? No. In tal caso non esagerò a dirti che c'è un grosso tesoro raggiù in quel buco. Dopo prima, vabbè, ora siamo amici, quindi lo spartirò con te. Dacci pure un'occhiata e restarei abbagliato. Ma secondo te ci casco? Ma quanto mi credi idiota? Ma quanto mi credi idiota? Secondo te? In una scala da 1 a 100. Secondo te quanto sono idiota? Secondo te? Secondo te? Vaffanculo. Però in effetti era vero, c'è un sacco di roba qua. In effetti non è che mi ha mentito. Umanità 4, ascia crescente. Pfff, ho fatto bene ad ammazzarlo. E ora? E ora però aiuto. Aiuto? Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Mi ha dato una roba. Mi ha dato una luce, tipo. Mi ha dato tipo qualcosa, giusto? Mi ha dato qualcosa. Ah, ma è un'arma. Me la conto come arma? Non è tipo roba che fa luce? Eccola. Oh! Heads, ragazzi. Adesso sì che questo gioco è Heads. Ok, credo di aver trovato anche la via. Vero. Sì, ma con 4 fiasche... Oddio, cos'è? Vedo... Ok. Con 4... Ok, sto scherzo. Dio, dio, dio. Con 4 fiasche credo che anche se trovassi Nito... Ci muoio. Ne ho 4. Sì, ok, c'ho tipo 30 umanità, però. Apparete l'usore. Ehi, magi, non c'è niente. Sono qui. Eccomi. Ciao, sono io. Cos'è sto posto? Cerchiamo di capire un secondo dove... Che siamo. Prima di fare cose strane. Allora, lì sotto c'è il falò. Siamo tornati al falò. Per... Ok. Ok, ce l'ho. Ce l'ho. Ok, e vi ricordo che ci sono ancora 10 qui, 15 minuti. Segui l'ascia di luce che fa la torcia. Ma perché fa... Fa una scia di luce? No. No, fa luce dove la metto io. Ho sbaglio. Ho svaldo. Ma poi di qualche diavolo c'è? Però, no, per andare da Nito mi sa che devo scendere, quindi... In questi 10 minuti devo... Devo morire 8, 8 volte, eh. Che cazzo è successo? Non sto capendo nulla. Ah, ho capito adesso. Via, via. Eh, ho capito. Tua madre nel culo di Satana. Via tutti, qui. Sono morto, non vedo. Eccolo, l'ho visto. Uno e mezza e si finisce il gioco. E beh, per forza. Via. Ci arriva. Ok. Ce n'è un altro? Ce n'è? Ok. È stato... Strano, ma facile. Ma perché mi sto facendo luce con lo scudo? Andre! Tizio di video gioco. Andre, che ci fai qui? Mori una seconda volta. Niente, non posso. Che ci va qui, Andre? I trappolozzi. Niente, mi sa che sto posto, sai, si va solo per sta roba inutile. Che palle. Uccidilo. Posso? Ma non credo di poterlo fare. No, no, no. Fottuta stato. Il terzo, Andre. Andre! Pug chomp. E quindi che devo fare? Cosa devo fare? Non capisco assolutamente cosa devo fare, però. Che fastidio quando non capisco. Cioè, tipo sempre. Che fastidio. Ma ci sono degli arcieri qua da qualche parte. Dove minchia sono? Dove siete? Dove siete che io vi sento? Ah, ecco dov'è che ero prima. L'ho capito adesso. Ok. Ok. Segui le luci blu? Ah! Ok, allora aspetta. Perché se arrivo da Nito voglio ucciderlo. Perché se arrivo da Nito nella prossima... Cioè, mercoledì incominciamo il DLC. Ok, allora. Le luci blu indicano la strada e le vedo solo con la torcia. Grazie mille. Vado, eh. Io vado. Fanculo. Oddio. 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 Ultimo signore dei tezzini. Ultimo lord della funcia di Minchia. Non mi pare. Non mi pare. Aiuto. Spieghiamo che muoiono un po' con loro. Quasi. Ah, quanti. Un puttana di giudano. Ce n'è qui? Quanta gente! Aia! Insomma, insomma. Insomma. Buttana di giudano di dubu. Ok. Un altro tentativo e poi stop, ragazzi, che è l'1.8. Me ne sono accorto, eh. Ah, devo aggiornare il counter, cazzo. Dead again, Omega Roll. Micà è difficilissimo sto pezzo. A parte capire cosa devo fare. A parte che prima non c'erano più le luci blu qua. Adesso sono tornate. Scendi, 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 scendi. Ok. We are here, boys. Non me ne prende le animal. Vabbè, frega cazzi. Eccolo lì. Eccolo lì il percorso. Di lì, di lì, di lì. Di lì. Ripeto, i due e il tre sono belli perché non c'è sta merda. Quindi si gioca, ci si diverte, al massimo si muore perché ci sono i boss. Non perché... Ah, guarda. Abbiamo reso il gioco difficile. Non vedi. Wow. Come siete creativi. Tu e la figlia di tua madre, segna mia, Zaki. Andiamo di qua. Cosa devo dire? No, di qua. Andiamo di qua. Cosa devo dire? Poi scendiamo di qua. Adesso le prende. Prima che erano 15.000, no. Non posso andare di là che c'è il buco. Devo andare di qua. Ok. Devo stare sempre attaccato a destra. Oh! Ah no. Devo stare sempre attaccato a destra. Minchia, quante cose mi starò perdendo però. Però non ci sto capendo niente. E il 2 è fatto bene, sì. Allora, secondo me è fatto bene. Non capito questo odio. Ci siamo arrivati? Nito, ti prego, non fare la prima donna. Fatti uccidere e trovare, basta. Esatto. Oh! Mi stavo guardando la chat, vieni qui! Vabbè, tanto non mi serve la roba che danno loro. Sì, sei quasi arrivato. Ok. Speriamo, speriamo. Si va, Pog. Oh no. Oh! Ma cosa fai con quell'arco gigante che sei arrivato qui? Mica, ma quanta gente che c'è per prima di arrivare da nito? Mario 64 in quel momento. Cosa succede? Sì, vabbè. Sì, vabbè. Ma, ma basti girando. Ma poi, sì. Come si sta vedendo? Scusa, arrivare da nito è impossibile. Ho trovato il colore. Comunque questi qua vi possono droppare le moschere. E ora? Bello. Eh, che schifo. E so anche che questi scheletrini piccoli possono essere farmati per le umanità. Che ne, tipo, ne droppano un casino. Da quello che so. Vediamo se è vero. Vediamo se è vero. Levatevi. No, è sparito il drop. È sparito il drop. Dai. Ma non sembrava che fosse la tempo. Vabbè. Corri via dall'acqua, please. E a sapere dove devo andare lo farei. Pezzo, ma chi se ne frega? Oh, girandola. Ma ti levi dal cazzo? Basta. Basta. Dammi qua con il nostro incredibile, affanto. No. È di qui. Ho visto un vertugio. Sopra? Qui? La strite? No. Sopra, sopra, sopra. E io vado sopra, ok? Arrivati! Che casino! Scheletro avanti. Ma io sono arrivato da qua. Ok, andato. Ma io sono arrivato da qua. Ah no. Ah no, eccolo, 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 eccolo. Animal di un eroe. La... Gastrite. Ok, un pp. Nito? Ancora. Dove cazzo è? Ah, è qua. Nito? Eh, ho capito. Eh, muoio! La pututù. Gastrite. D2V. La... La strite. Hai per lui? Monca S. Oh! Nito first try, Pog. Non credo. Ho tre fiasche. Tre perché una la sto per bere adesso perché non ho vinta. Ho tre fiasche. No, anzi, mangio una. Una. Mi aiutava. Ok. Perché almeno... C'è delle emergenze. Schifalo! Ci chiamo... Vediamo l'indicata di vedere... Ok. Ma anche gli sceletroni no, però. Che rottura di coglioni. Che due coglioni! Via tutti. Eccolo che arriva lo sceletrone. Via tutti. Ok. Sta per fare un po' qualcosa perché si è chinato. Ho ucciso tutti! Grazie. È così umano lei. Lei è così umano. Grazie. Grazie. Ok, fuggi di lì. Fuggi di lì, però. Fuggi, pezzo di merda. La testa di cazzo nel culo della vagina di Miyazaki. Pigrizza artistica è sfak. Perché non fai l'attacco gigante che uccide un po' sti qua che mi rompe le coglioni? Please. R1 spam e peperaz. Aia! Dai, 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 dai. Bravissimo. Ok. Perché io ho paura che faccio quella cosa lì e che quella cosa lì non mi sciotti? Perché... Eds first try. Eds first try. Easy. Easy game, easy life. Eds first try. Ok. Adesso ci manca solo il DLC. E poi abbiamo solo da ammazzare Gwyn. Oggi, ma... Oggi... Oggi sei un mostro. Ma come ha fatto Pog? Olè. Olè. Ragazzi. Mamma mia. Quest'uomo è un mostro. Easy, easy, easy ragazzi. Le soddisfazioni di mostrarvi quanto ci ho fatto. Stamina. Vabbè, ci mancano due milanime per rosserire ancora di un livello. Mangiamoci l'anima nel suddato senza nome. Uh, ancora milla. Tutto senza bere, esatto. Fra l'altro. Fra l'altro. E ancora stamina, se vuoi. Il prossimo facciamo vita. A posto, ragazzi. Easy. Che noia. Ok, prossima parte. DLC. Prossima parte DLC. Quindi mercoledì lì incominciamo l'energia. No, che cazzo sto facendo? Avvoletto, esci dal gioco. Vabbè. Insomma, già che siamo umani, allora scusami, eh. Invado qualcuno. Già che sono diventato umano per sbaglio. Ok, vediamo un po'. Permette di acquisire. Com'è che si invade? Eh, bla 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 bla. Invado in modo di impostazione di scaglia. Invado un altro... Perché non posso usarlo? Ah, non posso invadere qui. Ah, non ruolo. E tant'è si finisce sempre lì, eh. E tant'è finiamo sempre lì. Invadimi. Invadimi o invadimi? Vediamo. Non posso neanche... Non posso usarlo neanche qua? Oh no. Oh no. Oh no. Vabbè. Non c'è nessun posto, in chi posso usarlo? Qui? Non posso usarlo mai. Deve andare un po', un po' più avanti. Invadi, please. Eh, a sapere... Com'è che si fa? Non me lo fa usare. In fondo giù. Vabbè, anche negli archivi si può fare meglio. Devo andare giù dove? Oltre l'ascensore, sì, ciao. Non c'è... Oh, aspetta. No, è già messo dritto, ok. Ok, posso farlo. Vai giù, per Dio. Hyperlun. Vado, vado. Cristo. Perché non c'è mai la... Perché non c'è mai la... La... Clap. Qualunque emote, clap. Perché ci sono le scritte... Vedete come è curato questo gioco? Ci sono le scritte che volano, quindi ti fanno pensare che ci sia qualcosa sotto. Invece no, sono scritte messe nel niente. Perché non posso usarlo? Retarde, dai, per megalunio. Ok. Ora qua posso usarlo. Ah, non sono umano, dite. Ok. Eh, non me lo fa usare. Che padre, ragazzi. Cos'è che sto sbagliando? Non sei umano. Ma io lo... Ah, ma devo farlo al falò. Non c'è più il falò. Oddio, no. Devo andare al falò. Sì, sì. Il falò è qua sotto, ragazzi. Quanto troppo più comodi il 2 e il 3. Quanto troppo più comodi. Quanti difetti in questo video games. Retarde, dai, sfat, hypers. Mi... Levati dal buco della morte. Questo è perché ammazzi tutti. E quindi? Non mi pinto di niente. Difetti, Dust Game. Ecco. Tornoman, dai. 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 Ok. Ora, posso invadere? Usa oggetto. Oh. Ok, faccio questo e stop. Clippate cosa? Clippate che non ho ancora fatto niente. Ho invaso? Ho invaso? Clippate ora, ma non sta succedendo niente. Perché? Perché ora non posso più usarlo? Perché ora non posso più usarlo? Mica che gioca il più grande. Buonanotte Joe minore di tre, baci, 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 minore di tre. Che ridono. Buonanotte, grazie per essere stata qui. Non funziona sull'ascensore. Ma chi le dice queste cose? Cioè, io... Voglio dire, se nella descrizione di questo oggetto c'è scritto, attenzione, non funziona sull'ascensore. Che non vuol dire nulla, non vuol dire. Non posso fare niente, non posso fare. Ecco, andiamo via. Andiamo. Guarda come ho le maniche, guarda. Stavo tirandomi su quella che avevo già tirato su. No, di là. Dai, dai. Dai, dai, dai. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo superato, bravo. Sì. Cerca sto mondo, ti prego. Trovalo. Ti prego. All'attacco i miei prodi. Sì, ma tanto mi sa che a me li è nulla. Mi sembra che non funzioni, no. Non vedo nulla, non vedo. Ah, ma devo anche stare fermo. Minchia, ma chi? Dove sono scritte queste cose? Oggetto per modalità online. Ok. Gli esseri vuoti non possono usarli. Non c'è scritto. Né che non si può usare su un ascensore, né che devi essere fermo. Lo vedo come hanno rinnovato i server. Vedo, vedo. Sono fermo. È proprio bello. È proprio bello. Vabbè, quanti mesi sono stati? 29? Uff. Niente, ragazzi. Non si invade. Che bello questo PvP. D2C. Wow, D2C. Questo PvP è proprio bello. Invasione annullata. Cos'è quella schermata con mille righe? Mi viene voglia di scriverci otto. Ultimo tentativo e basta. Invasione annullata. Proprio così di botto. Non cambiare area. Ma sono sempre a Danor Londo. Basta. Non sto cambiando area. Oh! Oh! Dai! Dai che muoio! Si va! Siamo lì. We are in, guys! Siamo all'interno, Pog! Chi è? Wallace. Dove sei? Come fa... Ho due fiasche? Perché ho due fiasche? E lui dov'è? Lui dov'è? Ma ho ucciso tutti! Pazzo! Trovalo ora! Ma è merda! Ma io pensavo che mi facesse spawnare nei... Nei dintori. Non che fosse... La caccia... Cioè, fosse il nascondino. Lo ammazzano male. Se io sapessi dov'è... Non è qui. Perché le guardie sono calmissime. Non è qui. Anche... Anche quello lì è calmissimo. Non è passato di qua. Vuoi vedere il povero sfigato che si beccherà davanti un full ave? E l'armato di dente di drago più quattro. Forse è andato da... No, perché non ci sarebbero fuori quei tizi così tranquilli. Sì, so che se invado non posso entrare... Nei boss altrui. Cazzo. Dov'è adesso? Ma non è da... Ma non c'è! È così avvincente... Eh sì. Gli apro le porte. Vede i fantasmi. Vede le porte che si aprono da sole. I fantasmi. Gli spiriti. Ma dov'è? Sono tutti così calmi. Best invasione EU. Niente. Ma li ha già lootati però i bauli. Quindi... Cioè, da qualche parte è... Perché è già passato... Non capisco. Non c'è una chat in game. Non c'è niente. Si scopre che sta camperando in un angolo, sì. Ma vedete? Cioè, sono tutti tranquillissimi. Quanta azione di DOC. Ma dov'è questo po'... Ah, ho capito. Ma magari lui deve ancora arrivare qua. Scusa. Secondo te se vede un'invasione resta fermo. Secondo te se vede un'invasione resta ferma è per lui. Cosa... Cosa... E con questo? In che senso? Non ha neanche trovato il passaggio segreto sto... Ah, sì. Ah, sì. L'ha fatto. Non è che è qua sotto allora? Ti vengo a cercare. Vieni qui da papino. E non c'è neanche qui. Ha già preso l'level set. Vai a camperare davanti al boss? Sì, ma ragazzi, ma è l'una e mezza. Io pensavo fosse una cosa veloce invadere, non che dovessi anche cercarlo. Cioè, io non la potevo sapere sta cosa, ragazzi. Che merda sto metodo di invasione. Che merda. È dal fabbro? Vabbè, io lo aspetto davanti al boss per ora. Tututù. Vedete? Perché si sentono dei rumori fortissimi fatti in sottofondo. Come se stesse combattendo da qualche parte. Però mi avete scritto che se fosse stato dal boss... Cos'è? Cos'è quella roba lì? Ah, no, ha scritto. Io non posso entrare. Non so cosa fa. Mi sa che me ne vado, ragazzi. Non ha alcun senso, potrei stare qua due ore. Te, vatti te. Mi sa che davvero posso stare qua due ore. Cioè, non vuol dire nulla sta cosa. Dove cazzo sarà mai? Dal fabbro? Non lo so. E non è neanche qui. Almeno, mi pare. Non è nemmeno qui. È lui? Ah no, vaffanculo. Non è passato di qua. No, non è che voglio combattere ancora Gianni e Pinotto. Vorrei uccidere sta testa di minchia. Solo che si è nascosto in qualche angolo perché ha paura. Esatto, oppure magari mi ha fatto sponare qui alla cattedrale e lui ancora al falò base. Da qua posso in teoria controllare tutto. Ok, se lui è spunta da qua lo vedo. Però anche da qua in teoria posso controllarlo. Se lui è qua intorno... Giusto? Boh, non so cosa dire ragazzi. Mi sto rompendo i coglioni in una maniera imbarazzante. Sì, sono tutte le porte sono chiuse. Io come rientro adesso? Eh, anch'io sento rumori ragazzi, ma non capisco. Controlla dal dipinto. No, è impossibile. Non può avermi fatto sponare qua se lui è dentro il dipinto. Dagli arcieri. Che diavolo sono gli arcieri? Di chi diavolo sono? Monkafink. Io non posso neanche più entrare, fra l'altro. Non posso più entrare io. Non posso più entrare. Il città è fin da andare che quando vedono gli esseri invagi si nascondono in posti introvabili fino a che l'avversario non se ne va. Che palle. Quelli che sparano ombrelli. Ma io non mi ricordo dov'è che sono. Vabbè. Io me ne vado. Intanto non ha senso perdere così tanto tempo qua. Gli giro sta roba così da dargli fastidio e basta. No aspetta, così gli sto facendo un favore. Aspetta, vediamo se qua... Cioè, se è passato di fianco. Ma quali arcieri? Non è nemmeno qui, è niente. No, sta camperando ora. Sta camperando, sta camperando. Cerco solo di dargli fa fastidio almeno. Almeno quello. Glielo butto tutto giù. Ci sta dal nuovo. Ma di cosa parlate? Qui? No. Ok, aspettami. L'invasore più autistico del mondo. Autism invasion. Autistic invasion. Scusate. Qui? Blind as fuck. Io non capisco di dove cazzo lo avete visto. Dove cazzo lo avete visto? Autism level up. Qui? Ragazzi, basta con questi arcieri. Non so dove siano questi arcieri. Non capisco chi siano questi arcieri. Datemi un altro punto di... Un altro punto di riferimento. Che non siano arcieri. Perché non so chi cazzo siano. Destra. Su. Lì? Vai avanti alla cattedrale e gira a destra. Ok. Questo già è un riferimento più chiaro. Di qua. Bastava essere chiari. Di qua. Quelli non sono arcieri. Quelli sono... Ah! No. No, no. Non ho capito. Sì, mi devo anche curare. Sì, ho una fiasca. Ne dovrei avere sei. Cioè, cinque. Ok. Ora dovrei andare a destra. Quindi lui deve ancora entrare. Deve ancora aprire tutte le porte. Ma questo PvP è troppo avvincente. Ah ah. Quindi lui dovrebbe essere qui. A quanto ho capito. Ma ecco dove sono gli arcieri. Ok. Ok. E lui dov'è? Allora. Però perché ci sono ancora questi due? Com'è possibile? E c'è entrato perché gli shotgun sono aperti. Come? Ah, quando invadi ti dimezzano. Ok. Grazie. Sì, ho capito. Io ora che devo fare? Ti prego. Non fammi passare. Ma non è possibile. Era entrato anche prima. La roba di Avel era già aperta. Ah. No, non capisco. Eh, rumori. Ma vedete? Questi lì? Ce ne dovrebbe essere uno. Ma è morto. Non, 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 non c'è. Sento rumori. Comincio, lo devo trucidare questo tizio. Ah no. Comunque shortcut aperti, boh. Nel senso. Eh, mi ha spavuto di vedere. Sto vedendo robe strane. Cosa, cosa? L'emote. Anche io ho sentito un colpo di arco o qualcosa del genere. Non, non c'è più l'arciere qui. Dove sei? Dove cazzo sei? Eh, è su. Su dove? Lo sto cercando come un... Eh, l'ho visto! No, era un fantasma. No. Non è qui. Non è qui. Non è qui, ragazzi. Non è qui. Credo forse sia stato un bug. Magari è andato qua giù. O forse qua dietro. Gli senti rumori? I'm coming for your ass. Ti prendo. Sì, ma è imbarazzante sta cosa. Ti prendo. Cioè, il PVP più brutto che abbia mai visto. Ma è davvero la cosa più cringe che abbia mai visto. E rumori io non se sento neanche più. I rumori sono finiti. Ragazzi, vado. Cioè, non ha senso. Facciamolo più spesso questo PVP, eh. Dark Souls PVP è proprio bello. È proprio bello. Vai giù dal Fabbro. Mica, ragazzi, ma è l'1.37. E non c'è niente che si possa fare, tra l'altro. Cioè, non posso farci niente se non lo trovo. Guardo dal Fabbro. Se non è dal Fabbro, stoppo qua. Porca... Valas? Ecco, ragazzi. Siamo in, ragazzi! Get rekt! Inchinalo! E via! Panculo! Panculo! Riprovaci! Riprovaci a fare così il furbo. Riprovaci, riprovaci! Riprovaci, signorino! Riprovaci! Basta! Andiamo a fare... In culo. No! Niente, basta. Ok. Stasera, ragazzi, ho fatto davvero qualsiasi cosa. È dal PVP, vincendo, contro avversari temibili. Grazie, ragazzi, per gli Eds, per i Pog. Grazie, ragazzi.